Ennesimo incidente mortale sul lavoro questa mattina a Bologna, a perdere la vita un uomo di 30 anni di età, di origine siciliana, di cui non è stato reso noto il nome. Era dipendente di una ditta che si occupa di manutenzioni edilizie e poco dopo alle 9 era salito sul tetto di un capannone in via Fossa Cava, nei pressi dell'aeroporto, a confine con il comune di Calderara, per effettuare alcuni lavori di riparazione della copertura. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, una volta sul tetto, avrebbe messo un piede in fallo finendo sul lucernaio che non reggendo il suo peso si è sfondato facendolo precipitare 10 metri più in basso. A chiamare i soccorsi un dipendente dell'azienda per conto della quale venivano effettuati i lavori dagli operai della ditta esterna. All'arrivo i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso del trentenne per le gravi ferite riportate. Sul luogo si sono subito recati per gli accertamenti di rito e la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e gli ispettori della medicina del lavoro.